La Svizzera schiererà la Cambusi che in teoria dovrebbe essere la più forte subito? Si vede che ce ne hanno quattro contate No, è una scelta... Sì, prima frazione intendo dire Ecco qui, la Cambusi è... È la peggior corsia possibile È la peggior frazione possibile per Marzia Caravelli Ma queste sono le atlete E quindi I più forti sono loro Martina, Giovanetti riserva Tambungi è portata forte Meno forte decisamente Marzia Caravelli che va al cambio con Siragusa Molto schiacciato Non è partita come una setta Siragusa Adesso meglio Non fantastico il cambio Non proprio veloce Siamo provati a difendersi Martina Midei Davanti hanno le francesi Francesi che volano via Ecco qui a Loh Francia scappa via Torna stella la Acapoli Italia quarta Non bene la Svizzera E non bene come vorrebbe nemmeno l'ha già annunciato Ecco Marzia Fa vedere le frazioni delle italiane Italia quindi a 43-29 Per ora non qualificata Ma c'è margine e speranza Partita pianissimo Siragusa Viene quasi tamponata da Caravelli Qui la Siragusa si difende Ha in frazione anche la Skippers Quindi Competitori Importanti La Midei invece torna sotto Fa una buona frazione Vedi come pennella bene la curva È sciolta Il cambio pure è buono La Loh prende subito il bastone Si butta sul rettilineo E quarta era Quarta rimane Però Si porta Più sotto Sì sì 43-29 Mi sorprenderebbe Non fosse ripescato Certo Da ripescati Sì sì